Buongiorno, sono Simone Brancozzi, sono l'ediatore del Cuscotto di Controllo e anche oggi, mercoledì 3 giugno, vi propongo la mia pillola. Sapete che queste pillole sono un cammino, sono una call to action, cioè cosa devo fare per diventare un commercialista strategico, cosa devo fare per evolvermi. E partiamo dai quattro cardini, lo sapete, sono bisogna essere bravi, lavorare in network, bisogna essere dei commerciali e bisogna erogare dei servizi ad alto valore aggiunto. Bisogna essere bravi, o meglio, bisogna essere i migliori perché bravi non basta più. Oggi vi consiglio questo libro di Luigi Brusa, è un manuale che non può non essere in studio, deve esserci per forza, Sistemi manageriali, programmazione e controllo. Giuffre è editore. È ovviamente un libro che parla del controllo quantitativo, ma, che sapete, noi proponiamo il controllo qualitativo della balance core card, ma i principi scritti dai maestri, dai padri del controllo, Brusa è uno di questi, per esempio c'è un passo bellissimo dove si avverte sull'errore che può fare, ad esempio, il budgettista. Il budgettista non deve fare il primo errore, due errori non deve fare. Primo, pensare che i dati passati siano esattamente quello che succederà. Due, pensare che senza la mole di dati passati si possa andare avanti comunque. Come sempre, la storia insegna, ma non è la storia che ci può guidare nel futuro, bisogna andare oltre. Quindi, sono delle basi teoriche che ognuno di noi deve possedere. Circa il servizio ad alto valore aggiunto che ti invito a fare oggi è, i tuoi clienti sono Ross, sono Toci, non sono Ross o non sono Toci? Hai mai detto a un cliente che lui è un Ross? Hai mai detto a un cliente che lui è un Toci? Cioè, i clienti Ross sono quelli che marginano molto e fatturano poco. I clienti Toci sono quelli che marginano poco ma fatturano molto. Ci sono poi la stragrande maggioranza dei clienti che non sono né Ross né Toci. Nel cruscotto, questo si fa automaticamente perché ve lo fa il cruscotto, ma è un servizio straordinario. Fate la prova, quando mettete seduto il cliente davanti a voi, gli dite sei Toci, di avere un turnover del capitale investito di 4, hai un turnover del capitale investito di 2, redditività del 5%, le cose non possono andare bene. 3 minuti, avete cambiato la vita ai vostri clienti. Le attività di network, ecco una cosa che si può fare insieme è la newsletter da mandare ai propri clienti. Io proprio in questo momento sto preparando una newsletter che manderò ai partner del network consulente aziendali d'Italia, se volete informazioni consulente aziendali d'Italia.it, dove appunto, io ovviamente seguo quello che accade negli Stati Uniti, è arrivata una newsletter oggi sulla necessità di, in questo momento, di accelerazione del cambio, di accelerazione dell'evoluzione. Bisogna fare delle pianificazioni strategiche più volte all'anno e in maniera, diciamo così, più approfondita. Quindi alcune cose su quello che dovremmo consigliare ai nostri clienti. Sempre non sulle cose urgenti che scadono, ma sulle cose che non scadono, ma che sono strategiche, cioè quelle che cambiano la vita. Dal punto di vista poi del web marketing e dell'area commerciale, ecco io oggi vorrei farvi porre l'attenzione sul sito. Il tuo è un sito vetrina o è un sito che migliora la vita delle persone? È un sito dove c'è la foto dello studio? Chi siamo noi? La nostra mission? A me, di chi sei tu? Io parlo cliente, potenziale cliente. Quale sia la tua mission? A me non interessa niente. Il sito non deve essere la piramide della dimostrazione della tua grandezza, alla futura memoria di quanto sei stato grande, eccetera. Il sito deve essere di servizio. Quindi buttate via questi siti che sono pieni del nulla, sono soltanto l'esaltazione della vecchia, della passata prosperità, delle passate vestigia del vostro studio, ma mettete dentro utilità, studi, ricerche, benchmarking, fate cose che possono essere utili e attirare l'attenzione delle persone, perché solo questo porta un strambo della Connection Economy ad entrare in un sito e rimanerci più di sette secondi. Sette secondi sono il tempo che ogni strambo della Connection Economy, e vi ho spiegato più volte che siamo tutti strambi, ti dà a disposizione perché tu possa attirare la tua attenzione. Una volta che lui è entrato sette secondi, ne hai altri sette per fargli leggere quello che tu hai a proporre. Quindi ridimensioniamo e rivoluzioniamo, ricostruiamo tutti i nostri siti attorno ai contenuti. Ecco, per esempio, l'attività che sto facendo oggi, oltre a preparare le newslette che poi andranno nel blog, è anche di preparare una squeeze page, si chiama così, cioè una landing, una pagina interna al sito, dove ci sono delle informazioni su quali sono i nostri servizi. Per esempio, sto preparando proprio la pagina che i nostri partner dovrebbero mettere nel loro sito, dove si spiega come funziona il servizio cruscotto di controllo. Commercialista strategico, come deve essere il commercialista del futuro. Non dimenticate la diretta Facebook del giovedì, domani alle 18.30 sarò collegato con dei giovani. Domani parleremo, abbiamo parlato la volta scorsa dei problemi con le donne, hanno avuto un grandissimo successo e riprenderemo questo filone con le signore, con le nostre ragazze colleghe, e apriamo questo discorso invece con i giovani, perché per i giovani è altrettanto dura e ci sono delle sfaccettature molto interessanti e sinergiche. Quindi vi aspetto, chi volesse approfondire e sapere come diventare membro del network e iniziare il cammino per diventare commercialista strategico, quello che dovete fare è cruscottodicontrollo.it, vi trovate l'evento, il webinar gratuito del venerdì più vicino a voi, più comodo per voi, tutto gratuito, ed iniziate il percorso. Ok? Oppure semplicemente mi chiamate. Simone Brancozzi in Italia ci sono solo io, i miei numeri sono pubblici, scrivete Simone Brancozzi, c'è il mio blog con tutti i miei numeri di telefono. Un caro saluto e non mogliamo, anzi, è questo il momento che bisogna incrementare la semina perché il raccolto sta per iniziare. E se uno non ha seminato, da contadino vi posso dire che è difficile che raccoglierà.